Le onde di questi giorni hanno provocato questo risultato direttamente sul marciapiede, questa è proprio la zona dove la gente passeggia, dove cammina, c'è anche una panchina totalmente coperta di alghe e di materiale che è fuoriuscito dalle onde, sbattendo contro gli scogli qui sotto, totalmente coperti di alghe, hanno strabordato fino ad arrivare sul marciapiede, che immagino nel momento in cui queste onde erano più forti non poteva essere nemmeno oltrepassato, non poteva essere transitabile. Questa è la situazione, è difficile anche camminare, ci sono numerose alghe sul marciapiede ancora umide, ancora totalmente bagnate, avvicinandoci verso la panchina, si nota una panchina totalmente coperta di alghe, ormai asciutte, ecco sulla parte nera, quella del ferro, si vede ancora più chiaramente la copertura quasi totale delle alghe, che ovviamente poi nella parte dietro la ringhiera ha avuto modo addirittura di coprire totalmente sia il marciapiede che poi come vedete gli scogli sottostanti a beneficio di qualche uccellino e qualche gabbiano che sta svolazzando al di sopra, ma sicuramente non avrà una permanenza felice in queste acque e questa è certamente colpa del motondoso, colpa del vento, ma anche di una protezione che manca affinché possa essere evitata questa situazione.